Torna l'emergenza rifiuti a Battipaia dove cumuli di frazione secca sono rimasti per due giorni davanti alle soglie delle case dei battipaiesi. A ritardare il ritiro come è già accaduto in passato è il freno posto dall'ex Stir con consegne a rilento da parte dei camion in attesa di scaricare i rifiuti a causa dell'accumulo di pattume all'interno dell'impianto. Nonostante l'amministrazione di Cecilia Francese avesse chiesto precedenza di conferimento al sito gestito da Ecoambiente rispetto agli altri comuni della provincia, la situazione è nuovamente precipitata a Battipaia e si prevede un peggioramento con l'arrivo dei villeggianti.